Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Un vasto campo di alta pressione attualmente è stabile sul nord Europa e lentamente nei prossimi giorni tenderà a dirigersi verso la nostra penisola garantendo scenari più stabili ma nebbie sulle pianure del nord. Allo stesso tempo sulla penisola iberica insiste un centro di bassa pressione che favorirà nuvolosità e precipitazioni sul nord ovest d'Italia. Al sud invece correnti più fredde scorreranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione apportando cieli a tratti coperti e temperature fredde specie al primo mattino. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 14 febbraio. Al primo mattino freddo nelle zone interne della Puglia e nelle vallate lucane. Cieli sereno su buona parte della Puglia meridionale e della Basilicata ionica. Le correnti fredde orientali favoriranno la presenza di nubi solo sul Foggiano, Barese e sull'Alto Potentino con possibili deboli e sporadiche piogge nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori fino a sera. Le temperature come possiamo notare dalla grafica risulteranno fredde al mattino ma in aumento durante le ore centrali della giornata. Venti che soffieranno per lo più deboli dai quadranti nord orientali e mari da calmi a poco mossi. Per il consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò per questa romantica foto scattata sulle spiagge di Sant'Andrea in Salento che ritrae il connubio perfetto tra luna e mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.